Che scuole troveranno i bambini il prossimo settembre? Sicuramente più confortevoli, più pulite, perché poi vengono anche retinteggiate anche nelle parti spesso dove non interveniamo direttamente. In alcuni casi più confortevoli anche dal punto di vista termico, dove andiamo a sostituire infissi che soprattutto nel periodo invernale creavano dei problemi. Una calda estate di cantieri per le scuole a retine. Si tratta di interventi di manutenzione in alcuni plessi della città e delle frazioni per mezzo milione di euro che si concluderanno per la prima campanella di settembre. Sempre bisogna migliorare. Il nostro parco scolastico è ormai abbastanza anziano, quindi cambiano le normative, cambiano le abitudini e siamo sempre più portati a usare materiali più conformi non solo alle normative vigenti ma anche al comfort dei bambini. Per cui un rinnovamento di queste strutture scolastiche, non in senso strutturale ma edilizio, è sempre molto importante. Il problema da sempre è quello di riuscire a fare i lavori nel corso del periodo estivo quando le scuole sono chiuse. Quindi un lavoro importante ma fatto contemporaneamente su più scuole porta a un aggravamento delle condizioni di lavoro di tutti gli uffici tecnici che però hanno sempre assolto con grande solerzia consentendoci poi alla fine di dare ai ragazzi delle nuove strutture rinnovate e anche più belle. Si tratta di lavori di manutenzione necessari per rendere più confortevoli e in alcuni casi più sicure le strutture che ospitano i bambini. Il punto sui lavori è stato fatto proprio all'interno della scuola dell'infanzia Acropoli dove sono state già eseguite le demolizioni della pavimentazione e del rivestimento in legno delle pareti e del soffitto. Oltre all'Acropoli stiamo intervenendo a Rigutino, alla scuola primaria di Rigutino, a San Giuliano dove vengono realizzate due nuove sezioni per la primaria e riammodernata la cucina, al Nido Cesti dove vengono sostituiti tutti gli infissi, al Matto idem, alla 4 novembre dove vengono fatte pavimentazione e la scala di accesso, al Fonte Rosa dove viene realizzata una nuova cucina, e infine al Nido Cucciolo dove viene eliminata la copertura in ambianto che era in sicurezza, era incapsulata però viene sostituita definitivamente per maggior tranquillità di tutti. Quindi sono lavori per quasi 500 mila euro che si sommano a tutti gli altri realizzati nel corso degli anni scorsi per sbagliati di milioni di euro.